Antonio Padellaro, stati nazionali deboli e leader che in patria vengono considerati troppo forti, è successo a tutti e tre sostanzialmente. Sì, questa carrellata che avete opportunamente fatto vedere ci dimostra anche che c'è un elemento di teatralità spesso macchiettistica nell'accusare l'avversario di essere un dittatore. Noi abbiamo dei precedenti da questo punto di vista, avendo avuto un regime fascista che ha inciso nella storia nazionale in maniera profonda, è facile ogni volta accusare l'avversario di voler fare il Mussolini di turno. Ora, ci sono dei casi, quello di Salvini è lampante, l'ha chiesti lui i pieni poteri, ora onestamente non si può dire che Conte abbia chiesto i pieni poteri o voglia esercitarli perché abbia questa anima dittatoriale. Ci saranno certamente dei limiti di natura giuridica nei DPCM, come si diceva, però non esageriamo. Poco fa... Poco fa... Grazie a tutti.